Ciao a tutti belli e brutti e ben ritenuti in questo prossimo video Ehm, mi sembrava ancora un po' più strano Ma oggi continuiamo con i video di magia Allora, negli scorsi episodi avevamo fatto quello della moneta e quello Della banconota che si strappa questa degli illuminati Vabbè, e in questo video vi mostrerò un tronco di magia Prima però vi mostrerò la magia e poi dopo vi mostrerò come ho fatto Allora, passiamo subito al dunque Ehm, dove ho metto la camera? La metto qua Aspettate, dovrei No, non va Oh, così forse Aspettate, non trovo la sistemazione Molto bene Vabbè, allora filmo qua così Allora Allora, così Praticamente Noi Allora, praticamente noi abbiamo un pacco di fiammiferi Da cui vedete che uno è bruciato Ma è una simulazione Cioè Ah, no, non ve lo spiego ancora Vabbè, ho pittorato con il nero E Praticamente Ehm Noi Ehm Tiriamo fuori così Ah, tra l'allero, tra l'allà Eh, tiriamo fuori Vedete Non c'è più niente Di bruciata Che cosa Eh, appoggiamo un po' un attimo E vedete È fuori Dalla scatola Lo mettiamo qua da parte Prendiamo la scatola Chiudiamo la scatola Ehm Ok Magia Apriamo la scatola E Come Come per magia Aspettate Ce ne sarà dentro un uguale Guardate Aspettate Vi faccio pure vedere Tiriamo fuori pure la scatola Catolina Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Sono proprio tanti Ecco Abbiamo Ripreso Il fiammifero Ehm Il trucco è semplice Praticamente Uno non penserà Che ce ne sono due Perché praticamente Io Io ne metto dentro Uno Dopo qua non si vedrà Praticamente niente Non si vede però Solo da qua Aspettate che Sposto un po' più al centro Ecco Lo si vede solo da qua Praticamente noi Quando chiudiamo la scatola Cioè Quando noi tiriamo fuori Il fiammifero Qua Tiriamo fuori Sembrerà che Non ce ne è più un altro Quindi si vede Quindi si vede Qua così Che non ce ne è più nessuno Poi potete anche fare Vedere che non ne avete Potete Tirare giù la manica Potete Fare tutto Ma non ce l'avete Ehm A parte ovviamente Qua sotto Non dovete far vedere E poi Voi fate così Praticamente Quando voi chiudete Il fiammifero Tenterà di Uscire Vedete come qua Però Per Non farlo uscire Voi dovete tenere Non so Il pollice qua così E poi Quando arriverà qua Fate non so Spingete un po' dentro E Mischiate così Poi aprite E ce ne sarà E ci sarà Il Il fiammifero Poi per Fare un po' più Di magia Di cosa Potete fare Oh E poi Dopo Ci sarà Dentro questo Ok Ehm Aspettate un attimo Ehm Vi lascio un attimo Di pausa Perché Adesso ci sarà Un altro Ehm Un altro Un'altra Esibizione Ehm Sì Un'altra Esibizione No Anzi no La faccio poi In un altro giorno Ok Allora Per questo video Tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Che avete fatto Che avete fatto Che avete fatto Che avete dato Per questo video Ehm Vi ringrazio Veramente tanto Vi ringrazio di mettere Dei ben Mi piace Se non l'avete Già fatto Di iscrivervi al canale Anche quello Se non l'avete Già fatto E da me Da questa costruzione Di dov'è 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 Metti a fuoco Metti a fuoco Villain Ehm Villain Boh non so Con Questi tipi Sex Che domani Sei domani Ehm Ci salutiamo qua Bene ragazzi Per la visione